Scusate, ma è importante. Mica ci richiedete il certificato medico per rifare sto letto. Lo sai che devi essere bellissimo? Se no, in chiesa, guardano tutti l'americano. Mica gli sposi. Meglio così. Più che per lui, per i suoi soldi. C'è rimasto come quando era ragazzo. Quelli glieli portano via in una settimana. Comunque, la prima cosa che ha fatto è stata quella di andare a cercare la Luli. Ma era davvero così bella? Non bella, perfetta. La prima donna al mondo a non avere neanche un difetto. Un difettuccio ce l'ha sempre avuto. Le piacevano tutti. Non si dovrebbe dire lavorando ad un abito sacro, ma due anni fa l'ha trovata che faceva le marchette in una casa di Firenze. Ciglie. Bu. Non si può entrare. È il luogo sacro degli sposi. Mi mandano a dire che se serve io sono ancora vergine. Sei pure tu. Ma va. Oh. È tardissimo. È fatto. Ma cos'è l'acqua dei santi? Si usa ancora? Si usa ancora. Ci devi lavare. Coraggio. Ti ho spiegato come devi fare. Noi abbiamo auguri. Grazie. Non è il tuo matrimonio.